L'inchiesta ricostruisce l'ascesa di un gruppo criminale di etnia Rom, lo avete detto, nei quartieri a sud di Catanzaro. Per la prima volta viene contestata l'associazione mafiosa da manovalanza impiegata dalle cosche storiche del crotonese a clan autonomo con tanto di doti, dranghetiste e la possibilità di battezzare nuovi adepti. L'operazione della squadra mobile del capoluogo era iniziata nel 2016 e ha portato ieri all'arresto di 62 persone, di cui 38 in carcere e 24 ai domiciliari, smantellando anche altre due organizzazioni che trafficavano droga. Decisivo il contributo di alcuni imprenditori e commercianti che non si sono piegati alle logiche mafiose e hanno trovato il coraggio di denunciare e dunque collaborare con la giustizia. Un'evoluzione, quella del clan Bevi l'acqua passa l'acqua, che non è stata in dolore. Infatti il tentativo di affrancarsi dalle cosche storiche è stato contrastato all'inizio. Lo dimostrano due omicidi compiuti nel 2015 e nel 2017 che secondo gli inquirenti troverebbero proprio l'origine in questi contrasti per la voglia dei nomadi di acquisire un potere proprio. Il patto, ha spiegato poi il procuratore Gratteri, è un segnale invece di evoluzione dei clan tradizionali che hanno pensato fosse più redditizio, evitare ulteriori spargimenti di sangue concedendo l'autonomia e continuando a fare affari. Da Cosenza è tutto, Napoli.